Vibrante, cool ed elegante allo stesso tempo. Ma Milano è tradizione, è coolness, è contemporaneità. Storia e futuro vivono nello stesso modo, vivono a braccetto. Guarda, io non parlerei solamente di uno stile d'arredo, ma secondo me per reinterpretare perfettamente lo stile milanese è il mix and match. Quindi prenderei un oggetto di design con un pezzo artigianale molto particolare che spieghi un po' il know-how italiano del saper fare.